Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao, io sono Alice. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Questo è il negozio dove ho lavorato per questa settimana di stage a Nizza, nel centro commerciale. Sono in questo negozio di souvenir che si chiama Prendeio e lavoro dalle 2 alle 6 di pomeriggio. In questi 5 giorni a Nizza ho lavorato in basso in basso che si chiama Prendeio. Essendo un negozio di souvenir c'è una clientela molto vasta e non entrano soltanto delle persone locali ma anche dei turisti, quindi ho anche la possibilità di poter sentire e parlare altre lingue. Dai, Alice, vai. Allora, questo è il negozio dove ho lavorato. La 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 la. Qui è il medaglio del negozio? Qui è tutto. Sono ricordo di buon città alle Nazioni, sono occupata di accogliere la clientela. Ho messo una città sui vestiti e sono rilusinati e ho passato delle ore nel magazzino per rilusinare i fatti stagoloni. Mi occupo di accogliere i clienti e servirmi per un studio di aiuto. l'ho lavorato in un negozio del usato, un negozio vintage. Allora, questo lavoro è molto faticoso. Questo è il posto dove lavoriamo. C'è Alessandra che non chiede a niente. Gli unici che scoprono siamo io e lei. Hai venduto qualcosa? Ciao. Quoi è il vostro personale? Ciao. C'è l'unica di prestazione? Ciao. Sono contento di averla con me durante una settimana, è un bravo ragazzo, bravo ragazzo e alla prossima! Ciao! Alla prossima settimana con le figli, sono al top! Alla prossima, io vi presento i stagiaires, siamo qui o no? Sì, siamo qui, siamo qui, siamo qui! Io avevo con me durante questa settimana Noa e Diletta, che sono qui sono qui. Alla prossima settimana per lavorare, ma non, io riegole, sono dei buoni stagiaires, vogliono lavorare C'è per questo che io mi permesso di mettere un 20 su 20, un 20 su 20! È un'esperienza molto faticosa, ma in questo tempo molto bella Perché riesce ad apprendere meglio francese e riesce anche a comunicare con le altre persone Alla prossima settimana, oggi è il primo giorno dell'epoca E io vi consiglio questa esperienza a tutti! L'esperienza è stata interessante perché ho appriso molte cose sul mondo del lavoro E anche, ho appriso delle cose, ho appriso come agire con i clienti Questa esperienza è stata molto interessante perché ho appriso come funziona il mondo del lavoro E ho appriso come lavorare con i clienti Questa esperienza è stata molto interessante perché ho appriso come funziona il mondo del lavoro Allora, vieni! Pampà! Allora, vieni! I don't know why I love you like I do After all these changes that you put me through You stole my money and my cigarettes The video is finished because I have to go back to work Bye!